Buongiorno a tutti, benvenuti a questo secondo convegno Machiavelli Difesa, l'edizione 2023, un momento che il nostro centro studi ha studiato e promosso per animare e promuovere il dibattito su vari temi, facciamo dei convegni annuali anche su altre tematiche, questo specificamente ovviamente è sulla difesa e quest'anno abbiamo voluto dargli come tema generale quello delle lezioni che si possono apprendere dal conflitto in corso tra la Russia e l'Ucraina per fare in modo che l'Italia sia pronta per le eventuali sfide che dovrà affrontare nel presente e nel futuro. Quindi cercheremo su un programma che come avete visto è piuttosto esteso e denso di sette ore con numerosi panel e di dibattiti di analizzare e studiare molti di quegli elementi, di quelle caratteristiche che sono già state notate in questi mesi, che sono già state discusse, che vanno dal ruolo che hanno i droni nei campi di battaglia, quello dell'artiglieria, all'importanza del morale, della preparazione, dell'addestramento, la sorveglianza elettronica, sono tutte questioni che andremo a trattare e discutere con i nostri esperti quest'oggi. Non mancherà ovviamente anche la questione delle perdite e dell'attrito che una guerra convenzionale di alta intensità come quella che stiamo vivendo adesso alle porte dell'Europa, anzi possiamo dire in Europa, cagiona e comporta. Nessun paese occidentale oggi è pronto per sostenere questo tipo di attrito e di perdite, abbiamo previsto specificamente un panel sulle sfide anche per l'industria della difesa, non a caso, non è solo per una questione di produzione quantitativa, è ovviamente anche un problema che chiama in causa le politiche fiscali e di conseguenza la politica in generale, il problema di convincere i cittadini a sostenere i costi che sono necessari ad avere, come dire, massa e rindondanza per essere pronti a queste sfide. Purtroppo un lato poi più tragico di questo tipo di attrito che stiamo vedendo è quello delle perdite umane. Anche questo è un problema particolarmente complesso per i paesi come l'Italia, per i paesi europei in generale, perché tutti stanno attraversando una fase di declino demografico, di carenza di giovani in età militare. Quindi molto spesso su molte tematiche, su molti problemi, quando si cercano le soluzioni, nel caso dell'Italia si finisce sempre per cadere su questo specifico problema della denatalità, su cui posso dire il nostro centro studie è molto attento e lavora ormai da tempo. È sicuramente possibile che un ipotetico conflitto tra grandi potenze nel futuro sia deciso da quale sarà maggiormente capace di ricostituire le forze che va perdendo sul campo di battaglia. Una cosa importante da sottolineare ovviamente è che quando discutiamo di come fare in modo che l'Italia sia pronta ai conflitti del futuro non stiamo in nessun modo lavorando per promuoverli o per facilitarli, come ci hanno insegnato i nostri antenati, se si vuole la pace bisogna preparare la guerra, la preparazione è la principale garanzia di poter vivere, proseguire a vivere nell'epoca di pace che oggi stiamo attraversando. Uno dei tanti motivi per cui con l'Unione Sovietica non si arrivò a un conflitto effettivamente militare è anche quello che a Mosca non poterono sperare di risolvere in maniera a loro favorevole la contesa con una guerra. La preparazione dei paesi occidentali oggi significa avere il migliore deterrente per eventuali altre potenze che aspirino a un ruolo egemonico che altrimenti potrebbe essere tentato in futuro magari dal ricorso a uno showdown militare per riuscire a cambiare quelli che sono gli equilibri di potere.